subito l'attacco dell'all star roma e subito la rete pochissimi secondi ha segnato il numero 7 di nolfo punizione con il sinistro verso la porta para il portiere a terra vicino al 2 a 0 all star roma scambiano i due tocca e intercetta riuscendo a servire numero 7 che poi va alla conclusione de bernardo con un piede del bvb ballone sbagliato di bene intercetta vicino a lui leon cavallo attenzione al numero 7 che allora va alla conclusione para de bernardo troppo centrale prudietti il tacco e la rete il 2 a 0 dell'all star roma ha segnato matarelli ancora lo star roma la sterzata poi fuori gli annotti con il destro in fila alle spalle di petrantoni solo barriera ma può continuare il gioco l'all star roma perché il pallone è tra i piedi di dinolfo il pallone per cornacchia lasciato solo davanti al portiere un gioco da ragazzi segnare il 4 a 0 poker dell'all star roma gli annotti il pallone è davvero lungo e adesso il numero 10 proprio si fa riprendere il pallone arriva sul fondo pallone dentro 5 a 0 non si ferma l'all star roma rubi che però devono anche riuscire a superare l'attacco dell'all star roma e palla persa in maniera molto banale proprio quello che dicevo arriva il sesto gol fischio dell'arbitro verso la porta ha provato tiberi ha parato però a terra con sicuri gli annotti di nolfo si ruba il pallone gran giocata il mancino si infila nell'angolino sinistro 7 a 0 e neanche il tempo di giocare l'ultima azione arriva adesso il triplice fischio dell'arbitro 7 a 0 gara senza storia vince l'all star roma e si prende la testa del girone 6 a 0 gara senza storia vince l'all star roma e si prende la testa del girone 6 a 0 gara senza storia vince l'all star roma e si prende la testa del girone 6 a 0 gara senza storia vince l'all star roma e si prende la testa del girone